ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale oggi siamo tornati con di mutilare due al links partiamo qui dal duello con terra che è un duello da fare per la missione della fase, bisogna dibattere terra, andiamo qui, va ti tocca per iniziare lì con andiamo al primo allora siamo a te a me ok non basta di stare, non basta di stare, c'è un mostro normale e c'è un mostro normale e c'è un mostro normale per questo letto sul costereno che è chiaro per tutta l'attivazione e un mostro normale per questo motivo di tutto il mostro corretto e non solo stare in grado, è un mostro normale, nel 200% di stanza delle 64 in grado di una versione abbattistare, cioè all'inizio non dovrebbe farmi passare ma così, almeno a lui, non basta di capire il seems che non c'è la vostra ma come un mostro, un mostro normale e un mostro normale per questo motivo di stare, non lo faccio nel senso e pro adattamento bravo spero di un muro e non no ok 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 e così è qui in effetti il capito che non ci sono il capito il capito non ci sono si sono il capito il capito il capito il capito il capito non so se il pacco è bene, non ho visto la testa di anima se mi è attaccato normalmente io l'avrei allora guarda, il pacchetto è il pacco da vediamo che non ho avuto una testa nel 1600 nel pacco su 2 mmm, si trova di due minuti è il mio turno, che schiavo ho bisogno di un tributo per evocarmi si, non lo aspetta evoco morta al giame d'argento allora vediamo attaccato il pacco battaglia, attacca prima di stare dentro con una ripresa bassa avviene 15 si sta sbagliato avrei fatto a 100 e non senti più se avrei attaccato il pacco con il giame d'acqua non so, ma va bene adesso no, se non lo vedo il giame d'acqua, non lo so il giame d'acqua e avvengare mille 3 però adesso faccio una cosa che mi dice che c'è una nuova taglio questo ai tagli e si attaccano l'indiemo da un modo di non distruggersi entrambi no? quindi altrimenti si attacca e con questo si attacca l'acqua e quindi dico di sicurità di esso poi ce l'ho dito dove l'ho dito c'è una bella c'è una bella ma un'altra cosa non c'è una bella il mod il mod l'inferno con il demo non c'è un banco ma per la carta e voglio fare l'invocazione tramite il giro no guarda per la focca magia è evitato quindi dovrei riparare l'ultima ma ma io c'è un certo scappolo per completare l'appartamento quindi una frontiera non vuol dire attaccami e troverà un gatto di giro ahhh 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 avanti Questa è una carta nuova, mi metto 3 di fisica di un grado, oh buono buono, buono! Questa è una carta nuova, mi metto così molto, e a volte anche con sua, una arma di difesa, si può fare sempre bene, no? E l'attacco anche il mio! Aspetta, come si fa in giro? Ah vabbè, mi metto, se ne hai qualcuno ha un massimo di vento che io c'erano, devo andare, mi metto in giro, dopo le dragonile, mi metto in giro, mi metto in giro, mi metto in giro? Vabbè, scarsa! E' una carta nuova, ma come ho avuto da? per usare altre due volte che anche una protetora per completare la parte vediamo se ci riusciamo nel prossimo livello andiamo contro Jess noi Yama Yami Yuu Yami Yumi Yami 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 vincerà la festa però non dovrebbe attaccare quindi vediamo la giudicina non c'è nulla non c'è nulla non c'è nulla semplicemente sono le macchine però non abbiamo più un lyc, dove non bisogna ero un lyc, perchè ci vediamo ma non lo so attenziamo nella mia strada ma io non posso per lì però non mi sta minpendo la carta barile mi riusciano la messa allora passiamo 1,450 e poi ci ha fatto un corso di un'altra rinforzamento questo è un rinforzo di un cerno di un'esplosione davanti a una delle persone con un attività di un'esplosione che non vuoi ammazzare il cerno però se non metto il cerno all'interno del brodo più di un'esplosione a vedere non c'erano il cerno io non faccio mai dire io senza diremo perchè praticamente c'è molta maestro allora io non li faccio io non faccio bene le calcoli di mani coltana ma come le calcoli nel 50 con le presse da inagliare però si stacca non ho sentito proprio la fase di farmi sono carico di tanto magia da utilizzare aiutico avanti vabbè così io penso sia durato abbastanza quindi magari proverò io in off camera a utilizzare le due carti magie che mi rimanevano così da accelerare alla fase 7 quando registrerò il prossimo video e che dire iscrivetevi al canale cerchiamo di raggiungere 100 iscritti lasciate un mi piace attivate la campanella per non perdere i prossimi video ciao ciao